Il governatore mi ha scelto nella sua squadra, peraltro poi lo diremo nel corso della trasmissione, io arriviamo dalla stessa città, dalla stessa esperienza politica, quindi un rapporto forte e consolidato e per cui ha deciso di darmi uno dei settori più importanti, sia per il tipo di lavoro che per il tipo di priorità, di programma abbiamo noi e mi occupo di artigianato, di attività produttive, di ricerca e innovazione che abbiamo voluto raggruppare chiamando questo settore sviluppo economico. Bene, cominciamo adesso un percorso sulla tua vita e sulla tua carriera con una prima fotografia emblematica, perché io sono due Giordano, Massimo, vediamo la fotografia, ha cinque anni e oggi sorridente. Tu sei nato a Novare il 16 settembre del 1969, cosa ricordi della tua infanzia? Lì è la torta con le cinque candeline. Ma, diciamo, la mia infanzia ricordo un'infanzia molto serena, sono cresciuto in una famiglia normale, mio padre è giornalista, mia madre è casalinga, un'infanzia serena, gente simpatica, allegra, un ambiente vivace, per cui non ho che bei ricordi. Un bambino bravo o dispettoso? No, discolo come sono adesso, un po' testa calda, però testa calda anche nel senso buono, nel senso di molto vivace, però ecco, ho respirato un'aria molto buona a casa mia, dove ti insegnavano la libertà, l'amicizia, le stesse famiglie, cioè non c'erano altri valori che ti venivano messi sul tavolo. Senti, cosa ricordi della maturità scientifica Alice o Antonelli? Ma io, siccome ero un discolo e mi occupavo più di fare rappresentante degli studenti a scuola che non a studiare, sono arrivato alla maturità, mi ricordo con questo aneddoto, io avevo durante l'interrogazione dell'orale, avrò avuto 70-80 amici che mi erano venuti a sentire, a un certo punto mi chiede di tirar fuori la Divina Commedia per commentare il Paradiso, io tiro fuori, mi leggo i versi, non corrispondevano i miei, in realtà avevo preso il purgatorio e quindi, insomma, per quello i professori subito mi avevano inquadrato per quello che ero, uno che studiava poco, però sono riuscito ad essere sempre promosso. Poi in realtà all'università sono diventato molto più bravo. Sì, e so che hai fatto anche una bella carriera con master anche all'estero. Poi ho capito che in realtà bisogna appassionarsi anche allo studio, non solo alla politica. Chissà perché la tua storia da studente assomiglia molto alla mia. Senti, poi tu giocavi al calcio da stopper. Da stopper, combattente. O stopper oggi non si dice più, no? Difensore centrale, ma allora si giocava da stopper. La squadra? La squadra era la Juventus Club della mia città, ho giocato fino a 14 anni, poi ero bravino, ma non così bravo. Ero un mastino alla difesa. Ho avuto anche con i centravanti, insomma io giocavo a centravanti, era un brutto cliente. Un brutto cliente.